economici si era prefisso due mete essenziali, superare almeno due o tre turni di Coppa Italia e rigorosamente due presenze in Coppa UEFA. Importantissimo dunque l'Euro goal di Buso. Il campionato finora ne ha sofferto, ma gli obiettivi di Coppa sono stati centrati. Le casse del Napoli sono dunque salve, sicché venerdì, quando si conoscerà dal sorteggio il prossimo avversario degli azzurri, ci sarà corsa al botteghino per vedere questo Napoli che tra assenze, stenti ed infortuni, pronuncia con il recupero di Bordini e di Boghossian il ritorno al tridente per risalire velocemente anche in campionato. Insomma, a parte il dolore di Guerini che ha preso subito dopo la gara di riga della morte del padre Alceste, il successo in Lettonia ha ridato nuova carica agli azzurri e all'ambiente che lo circonda e taglia la tela nel finale della partita di ieri e è stato l'autentico protagonista salvando una vittoria che fa morale. Già domenica con il recupero di pecchi a cruzze e carbone, ieri assenti, contro il padre Vaceodore di riscossa. Attesi al gol Rincon, che lo ha sempre sfiorato finora, ed Agostini passato dai 18 gol del campionato scorso al vigiuno totale.